C'è un ascensore. Ottimo. Lewis non avrebbe fatto di meglio. L'ascensore non funziona. Non c'è corrente. E lo abbiamo fatto arrabbiare i caduti. Sì. 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 Ehi, sono qui! Riesco anche a vedervi! Avanzate! Ehi, sono qui! Ce l'hai fatta? Sembra che Luis mi debba dei soldi. Bene, vediamo se funziona. Se ho seguito bene il manuale... Ricevo una trasmissione. Guardiani, la città è persa. Se è rimasta anche solo una luce nel sistema, la Dunata è su Titano. Fatevi bavere. Guardiani, la città è... Zavala è vivo! Se partiamo subito, possiamo... Non andrete su Titano. Stiamo accogliendo rifugiati. La Legione Rossa è sempre più vicina. E i caduti anche. Ma abbiamo di nuovo la luce! E se vogliamo riprendere la città... La vostra città non c'è più! Votorn, torneremo. E non saremo soli. Saprete dove trovarmi. Votorn, torneremo. Saprete dove trovarmi. Votorn è diventata. Sätte XXX Sì, sì... Sp 2005 Saprete deve trovare le Пр incentiliche di novella mappa tiiche. E non bambini! Caprina si 친. Mancalamale, skepticizzare! Inizia Contra Risparmieresti tempo e fatica se mi uccidessi e basta Per uno che si fa chiamare oratore Devo dire che non sei molto loquace Abbiamo saputo che uno dei tuoi guardiani ha ritrovato la luce Dici di non avere alcun potere sul viaggiatore Eppure è successo questo Aiutami a capire oratore La luce permea tutto l'universo Tutte le cose Puoi fermarla o anche intrappolarla Ma troverà sempre un modo per tornare E il viaggiatore riuscirà a liberarsi Il viaggiatore L'ho osservato per anni I mondi che ha toccato Il suo potere sulla vita e sulla morte Non siamo così differenti Io e il tuo viaggiatore Non osare mai paragonarti al viaggiatore Mai Lo chiami potere? Controllo? Io so chi sei Sei nato nella miseria E morirai nella miseria Se il viaggiatore ha veramente scelto umanità di sua spontanea volontà Allora potrei semplicemente entrare Strappare la luce con le mie mani Per ridurre in genere il sistema Solo coloro che sono scelti dal viaggiatore rinasceranno nella luce Sì Lo so bene È per questo che ho reclamato il tuo pianeta ed è per questo che sei ancora vivo Il viaggiatore mi sceglierà oratore E tu mi dirai come Il viaggiatore mi sceglierà il tuo pianeta 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 E tu mi dirai come Qualcosa di tragicamente bello nel vivere ammirando il frammento del tuo pianeta Tutti al rifugio lo percepiscono Grazie per la visione! Grazie per la visione!